Dal cordoglio di decine di squadre pugliesi si può già intuire la caratura dell'uomo. Se n'è andato dopo un anno di lotte e cure Rocco Augelli, confortato dal supporto costante della sua famiglia, che l'ha seguito anche fuori dai confini italiani in una battaglia che ha commosso ed emozionato tutti coloro che l'hanno conosciuto. Al suo fianco c'era anche un'altra famiglia acquisita che l'ha sostenuto moralmente ed economicamente in un percorso difficile e senza le certezze di cui si avrebbe bisogno in momenti come questi. La vittoria questa volta non è arrivata. È arrivato però un messaggio di un valore inestimabile, quello di un uomo come tanti che a 35 anni ha lottato con tutte le sue forze contro un male terribile e ha dimostrato invece di essere unico. Il calcio pugliese si è stretto al fianco del suo campione da oltre 200 gol in carriera dopo averlo apprezzato sia da avversario che da simbolo delle squadre in cui ha giocato. Quella vieste che è diventata casa sua, San Marco in Lamis dove aveva intrapreso la sua prima avventura nello staff tecnico, ma anche Barletta, Trani e Molfetta in un cerchio che ha avvicinato realtà molto diverse tra loro. Squadre grazie alle quali si è fatto conoscere in Puglia e con le quali ha messo a dura prova i difensori che provavano a fermarlo. Oggi piangono anche gli avversari che avrebbero preferito sfidarlo ancora una volta su un rettangolo verde piuttosto che combattere al suo fianco in una partita così dura, spaventosa e logorante. Venerdì sera era circolata la notizia della sua scomparsa, poi inizialmente smentita da amici, colleghi e società. Forse c'era spazio per un ultimo gol con la maglia numero 7. Stavolta però il lieto fine non c'è stato. Rimane l'insegnamento di un uomo e di un calciatore amato e rispettato, dal Gargano al Salento, che con la sua storia potrà ispirare ancora il mondo del calcio pugliese, non, ma anche i tanti che continuano a lottare contro quello stesso male. Per il primo turno di Coppa Italia, Sansevero e San Marco hanno deciso di rinviare il match in programma domenica. Sugli altri campi non mancheranno il ricordo, la commozione e le lacrime. Rocco Augelli ha lasciato questo mondo ma continuerà a vivere nel cuore di chi ha avuto il privilegio di conoscerlo.